Allora, in piazza Cadorna, tanti insegnanti, tanti ragazzi, ma non mancano neanche i genitori che ci tengono a dire la loro. Sì, siamo tutti qui riuniti oggi appunto perché abbiamo fatto partire questo progetto, diciamo così, per unificare il corpo insegnanti della Cadorna all'Istituto Piero della Francesca, perché il corso del liceo delle scienze applicate che è partito qui alla Cadorna due anni fa, adesso non è più attivo perché è stato fatto partire al liceo scientifico Francesco Reda. Per cui noi non vogliamo che i nostri figli abbiano un diritto allo studio normale, non in una scuola che sta andando a morire, ma in una scuola seria e che gli dia uno sbocco sul lavoro serio. Si parlava di un'operazione quasi più di prevenzione che di rischio totale. Certo, esatto, un'operazione di prevenzione perché partendo prima riusciamo così a prevenire quello che poi potrebbe essere il male peggiore per i nostri ragazzi.